colonnello Gheddafi lei con questa fama da duro che si ritrova alle donne che gli fa spesso l'aspetto pubblico è in contrasto con quel rivato in realtà io sono un buon padre di famiglia sono innamorato solo di mia moglie e dei miei figli io stesso la sera addormento il più piccolo con tenerezza eccetera eccetera quant'è dolce sto chi l'ha detto che starabi sono violenti arafa lei c'ha questo look da casalinga questo copricapo è uno strofinaccio da cucina una delle più grosse conquiste dell'olp organizzazione per la liberazione della palestina è stata l'acquisto di una lava stoviglie che ha lasciato fuori uso una grossa quantità di strofinacci da cucina che noi usiamo come copricapo il corredo prevede anche dei guanti sempre da cucina una parananza e poi le famose presine dell'olp mino me ce vorrebbe dentro casa sto domi 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 domicilio